Inaugurerà domani alle 14.30 in Darsena la più grande ruota panoramica d'Italia, alta circa 40 metri, dalla quale cittadini, turisti, adulti e bambini avranno la possibilità di ammirare il canale candiano in tutta la sua bellezza e perdere il proprio sguardo tra lo skyline del centro storico. La ruota panoramica semi-amovibile, gestita dalla ditta Gioco Premio di Forlì, è composta da 20 gondole, più una speciale per persone disabili con una capacità massima di 127 persone. È previsto che la trazione a costo zero per l'amministrazione comunale sia aperta nei giorni prefestivi e festivi, dalle 10 alle 24, tutti gli altri giorni dalle 14.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 24. I biglietti saranno venduti al prezzo di 5 euro, 4 i ridotti. La presenza della ruota panoramica sarà anche un'occasione d'oro per tutti gli appassionati di fotografia digitale che potranno mettersi alla prova nell'immortalare la bellezza della città, grazie al contest Instagram Ravenna Skyline, realizzato in collaborazione con la community fotografica degli Igers. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.